ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi un nuovo svuota la spesa senza glutine ecco perché già sabina stava ridendo perché via cerca di bere l'acqua ma anche senza glutine un svuota la spesa euro spin non abbiamo fatto tantissimo però siamo andati anche al bennett abbiamo preso due o tre cose e volevamo farvele vedere ecco insomma allora abbiamo preso quattro confezioni di carote da un chilo tieni addetta al frigo poi due pacchi di biscottini per pia questi qui delle prime papi biologico le piacciono tantissimo abbiamo preso una rete di limoni due confezioni di mozzarella da queste qua 4 per 125 grammi se riesco a non farle cadere le dobrina due confezioni di lenticchie due barattoli poi abbiamo preso 7 filetti di sgombero di questi qui all'olio vegetale e uno come sempre oramai di questo qui al naturale poi 6 latte 3 per pia poi ho preso una confezione di questi burger alla soia due porzioni ma vabbè li mangerei tutti da sola sono buonissimi poi 6-5 confezioni di uova fresche queste qui da allevamento a terra un gorgonzola dop dolce per la pizza che facciamo stasera adesso poi ve le faccio vedere una confezione di tonno all'olio vegetale quattro confezioni di tonno al naturale poi qua 8 confezioni di pappa per i mici ne abbiamo prese due per ogni gusto e quattro confezioni di pappa per i cani ne abbiamo prese due gusti poi una confezione di crocchette per i gatti queste qui solite dell'Eurospin tre buste di parmigiano reggiano dopo grattugiato che è in offerta ma alla fine ne ho presi tre o due due sacchetti di fagiolini freschi passata di pomodoro ne ho prese cinque ok tre pacchi di fagiolini poi una confezione di cipolle dorate e una confezione di cipolle bianche poi ho preso un sedano che diamo a Sabrina due pacchi di crocchette per il cane queste qui premium porle tacchino che sono in offerta due confezioni di scottex questo qui a noi piace questo verde una confezione di cuore di porro tieni Sabrina una confezione di prosciutto cotto scelto che è senza glutine è per la pizza pia che rugna perché ha fatto la cacca la cambiano e lei non vuole una confezione di burro del prezzemolo il paccone di patate da 4 kg che è in offerta a 2,60 euro la ghiaia per i gatti poi abbiamo preso una confezione da 12 viuster che sono anche senza glutine e senza latte e sono in offerta due confezioni di cecci in scatola e 2 kg di pomodori adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso al Bennett allora al Bennett ho preso due rotoli di questo nastro isolante perché non ne avevamo in casa una confezione di acqua da 6 piccola del Bennett vedete perché i bambini avevano sete il grembiulino per Giada per la scuola poi sempre per Giada abbiamo preso lo zaino così di Ladybug questa cernierina piccola e poi qui ne ha un'altra un po' più grande e poi qui un'altra e poi lì un'altra sembra abbastanza bella poi l'astuccio ha scelto questo qui della Seven che qua sembra un po' di jeans e qua ha i cuoricini vabbè dentro aspettate che lo apro vi faccio vedere allora nella prima tasca c'è il righello con le penne la matita forbi, ciccola, temperino e gomma seconda tasca penarelli della Giotto terza tasca matite colorate sono veramente veramente belle credo che col fatto del covid non ci sia bisogno di scrivere di chi è la roba tanto non se la possono prestare e poi ho preso due di queste confezioni di Fairy Platinum Plus tutto in uno perché l'ho già usate due come vi dicevo nel video che avete visto e mi sto trovando molto bene sono ottime quindi per un altro concorso di cui vi farò un video a parte che c'è compreso anche zaino e astuccio vi spiegherò poi tutto e allora le ho riprese ho ripreso queste qua anche perché vabbè erano quelle che convenivano di più ma poi vi spiegherò perché quindi vi ho fatto vedere ah no devo farvi vedere ancora le pizze e le cose che sono nel freezer allora sempre l'Eurospin mi sono dimenticata scusatemi un po' il confusionario questo video ho preso la pizza la pizza per Maurizio e Gabriele ho preso questa qui ovviamente senza glutine pizza margherita con farina di grano saraceno e mozzarella filante senza lattosio andranno ad aggiungerci le cose che preferiscono per noi ho preso tre pizze e margherita due confezioni di queste qui tre pizze e margherita che sono in offerta e poi la pizza al salame per Manuel poi per ultimo ho preso i gelati non tanti erano in offerta no ne ho presi in offerta no ho preso il gelato al pistacchio che dovrebbe avere i pezzettini come quello alla nocciola quello alla nocciola io ve lo consiglio veramente buonissimo dentro ci sono i pezzettini di nocciola fantastico e poi ho provato a prendere il gelato al gusto crema e invece senza glutine ho preso questi quattro coni alla panna e sei biscotti sei biscotti e poi ho preso anche i filetti di merluzzo atlantico questo è tutto quello che abbiamo preso ah no vi faccio vedere ancora questo avete visto nelle immagini che ci siamo fermati la casetta dell'acqua e abbiamo riempito le bottiglie e quasi sicuramente torneremo a prendere l'acqua dalla casetta perché intanto costa di meno poi è buona e poi così smettiamo di fare tutta questa plastica inutile adesso vi ho fatto vedere tutto noi mettiamo via questi gelati e inforniamo le pizze dopo averle condite ovviamente spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale mi raccomando attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi video noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Come on, come on